C'è di più, c'è di più, queste mani, questo cuore, questo ombio dell'amore. C'è di più, c'è di più, diventiamo grandi insieme, diamo luce a questo mondo. Questa è solo una parte del canto che ha accompagnato l'intera manifestazione C'è di più, ma che cos'è nel concreto questo di più di ognuno di queste persone? Noi siamo andati a chiederglielo. Ciao, come ti chiami? Manuel. Da che diocesi vieni? Rimini. Ti sei divertito oggi? Sì. Qual è il tuo ruolo nell'azione cattolica? Sono l'assistente diocesano della CR. E sei qui a Roma perché oggi? Perché più di 700 e passa dei ragazzi della nostra diocesi, sono qui per la festa nazionale, l'incontro con il Papa dell'azione cattolica dei ragazzi e quella dei giovanissimi. Don Giuseppe, c'è di più qui a Roma? Hai voglia se c'è di più, c'è più strada da fare, ne abbiamo appena fatta un'ora. E adesso c'è una festa che veramente è più di ogni altra cosa. I ragazzi stanno bene, incontrano tanti coetanei e soprattutto vedono la chiesa, che è grande. Ciao, di che diocesi sei? Di Rimini. Ti sei divertito oggi e ti stai ancora divertendo? Sì, sì. Perché sei venuto a Roma? Per vedere il Papa. Hai trovato quel di più qui a Roma? Sì, sì. C'è di più allora, vero, con l'azione cattolica? Sì. Cosa ci fai nell'azione cattolica? La CR. E oggi qui a Roma, cosa è che ti è piaciuto di più? Andare a vedere il Papa. Ti chiami Suor? Francesca. Di che diocesi sei? Tivoli. Sei giovanissima, quanti anni? 35. Hai scoperto che qui c'è di più? Eh, caspita, se c'è di più c'è Gesù!